L'accordo raggiunto ieri tra il governo italiano e l'Algeria rappresenta un primo e importante tassello sulla delicata vicenda energetica del nostro Paese. Difatti il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal Presidente di Confindustria, Bonomi, ha siglato ben cinque accordi bilaterali a partire da quello energetico. Per l'Italia questo accordo diventa fondamentale per garantire energia per il futuro al nostro Paese, isolando sempre di più la Russia e riesce a colmare il vuoto in Africa creato volutamente da Russia e Cina. L'Algeria diventa in questo modo primo fornitore di gas e potenziale partner del Piano Mattei, con i tanti vantaggi per trasformare l'Italia in un hub energetico, una porta sull'Europa, fondamentale per garantire stabilità energetica. Gli accordi siglati ieri rafforzano le ottime relazioni tra i due Paesi nel campo politico, economico e culturale, ed i quattro accordi privati su idrogeno e riduzione del gas Serra. L'Italia e l'Algeria stringono rapporti fra le imprese sulla cooperazione industriale. Da marzo Fiat produrrà Auto e Moto Urano e vogliamo produrre la Vespa, cooperazione aerospaziale, siglata un memorandum fra le due agenzie nazionali, digitale e navale, sul dossier Energia. L'Algeria ha bisogno del ponte verso l'Europa offerto dall'Italia che deve risolvere il problema dei gas dot che attraversano il nostro territorio. Il capo dell'esecutivo Giorgia Meloni, rientrata in Italia, dovrà occuparsi delle questioni che riguardano la giustizia con le polemiche degli ultimi giorni. Al suo ministro sulle intercettazioni dovrà occuparsi della delicata vicenda dell'autonomia tra le regioni, lo sciopero dei benzinai ed il nodo sulle concessioni balneari. Grazie. Grazie.